è la riserva naturale biogenetica dei tomboli di Cecina, della foresta, dei vertici, ah guarda qua che spettacolo guarda, vieni dentro, vieni giù, bellissima, stavi vicino, mmm bellissimo guarda, cosa vuoi di più bello per andare in bicicletta, sembra una volta si diceva campo da golf, guarda adesso, se mi stai vicino, guarda adesso, Grazie a tutti. No signora sto facendo un video. Grazie a tutti. Andiamo a vedere il mare. Grazie. E continua. Andiamo a vedere. 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 Andiamo. Andiamo a vedere. 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 Andiamo a vedere.